Buongiorno, buongiorno. Mi sentite tutti? Sì. Allora, Aroldo è il melodramma scritto da Giuseppe Verdi per l'inaugurazione del nuovo teatro di Rimini. Andò in scena il 16 agosto 1857, quando si erano appena conclusi i lavori della costruzione dell'edificio progettato dall'architetto Luigi Poletti. 16 agosto 1857, 16 agosto 2021, esattamente 164 anni dopo. La data dell'incontro non è scelta a caso per celebrare quell'evento e soprattutto per raccontare questa nuova produzione. Ecco qui riunito tutto il cast artistico e tecnico di Aroldo che debuterà la prossima settimana. Abbiamo con noi Giampiero Piscaglia, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Rimini, al quale passo la parola per spiegare l'importanza di riportare oggi l'opera che ha inaugurato il Teatro di Rimini a pochi anni dalla sua riapertura, avvenuta solo tre anni fa dopo i bombardamenti del 1943. Prego, Assessore. Buongiorno a tutti, ben trovati qui in questo foyer con le colonne neoclassiche e con questi due grandi scaloni monumentali che pochi teatri hanno. Qui c'è un primo segno inaspettato di Luigi Poletti perché in tutti i teatri italiani le scale sono fuori dalla sala, solitamente piccole e anche scomode. Lui invece vuole costruire per ragioni diverse anche per i costumi, gli abiti delle signore, c'è anche questo elemento. Ma soprattutto per una questione egualitaria. Tutti devono entrare da lì, tutti devono salire lì e questi scaloni unici nei teatri all'italiana salgono al primo, al secondo, al terzo e anche all'oggione, senza nessuna differenziazione di entrata. Detto questo, quella che noi presentiamo oggi e di cui continuiamo a parlare perché non è la prima volta, non voglio esagerare con l'enfasi, ma per noi è una produzione storica. Non è una delle tante produzioni delle nostre stagioni, della nostra stagione, della nostra stagione lirica. Perché è un'edizione storica, è una produzione storica? Perché se noi proviamo a fare così, avere davanti a noi una ideale linea del tempo, beh, a un capo estremo di questa linea del tempo c'è l'Aroldo, la scrittura di Aroldo, anzi, al capo estremo di questa linea immaginaria c'è lo stifeglio. Se Verdi non avesse dovuto riscrivere lo stifeglio per ragioni legate alla censuria, non ci sarebbe stata la scrittura dell'Aroldo e l'inaugurazione che Verdi decide di fare a Rimini, anche contro il parere del suo editore. E quindi, in questa linea del tempo, troviamo un primo episodio che è l'Aroldo. Verdi viene a Rimini, in una città adorante, insieme a Giuseppina Strepponi, a Francesco Piave e Angelo Mariani, in una città che comincia già a risentire qualche effervescenza di stampo mitteleuropeo. In fondo stava nascendo proprio in quegli anni la prima fiammella dell'industria balneare, che diventerà quello che oggi sappiamo, e contemporaneamente si pensa a un teatro proprio in quegli anni, che non è certamente un teatro per i 30.000 abitanti di Rimini, ma è un teatro che, in corrispondenza a quell'industria balneare nascente, doveva essere un teatro da capitale. Quindi viene scelto l'archistar del tempo, che è uomo dello Stato Pontificio, ma insomma pur sempre un archistar, che è Luigi Poletti. Verdi viene solo a Rimini a inaugurare con una sua prima un teatro. Non c'è nessun altro teatro in Italia che sia stato inaugurato da una prima di Giuseppe Verdi. E questo è il primo episodio importante in questa linea del tempo, dopo la quale il teatro prende la sua vita per diversi anni, e poi succede che in quel dicembre del 1943, dei bombardamenti devastanti delle fortezze volanti alleate distruggono in maniera seria, devastano non solo la platea, ma anche il palcoscenico. E si tratta di una devastazione non solo fisica, è una devastazione profonda, morale, spirituale, che è una ferita che dura per troppo tempo, lunghi 75 anni, ci sono voluti per ricostruire il teatro. E questo teatro poi, proprio il 28 ottobre del 2018, riprende vita, riapre le sue porte con una prima, che in questo caso è un'opera di Cenerentola di Rossini, con, come sapete, la presenza di una stella del canto internazionale che è Cecilia Bartoli. Poteva essere reinaugurato con l'Aroldo, non è stato possibile farlo, simbolicamente lo poteva fare, ma non è stato possibile farlo. Abbiamo dovuto rinviare continuamente questa proposta dell'Aroldo e oggi ci siamo, ma quella che oggi presentiamo, come dicevo, non è una delle tante proposte, perché questa che andrà in scena il 27 e il 29, di tutti questi episodi contenuti in questa ideale linea del tempo, li contiene tutti, con una drammaturgia e anche con una scenografia, che questa volta non è più ambientata, cioè Aroldo non è più un reduce dalle crociate, ma è un reduce delle guerre d'Africa, e quel periodo consente, gli anni venti consentono di arrivare anche alla storia della nostra città, del nostro teatro, cioè ai bombardamenti del Teatro Galli. E quindi una drammaturgia come quella che è stata concepita mirabilmente riesce a contenere tutti questi episodi che vanno dallo stifelio fino al nostro Aroldo. Non è una delle tante drammaturgie. Credo che sia importante una edizione storica, non credo solo per il Teatro di Rimini, anche per il lavoro che è stato fatto da Emilio Salle, da Edo Sanchi e da Maglio Benzi, al di sopra di tutte le altre collaborazioni. Quindi siamo qui oggi ad annunciare queste due prime, c'è molta attesa, e invito tutti ad avere gli occhi puntati su questa edizione, perché sarà un'edizione che continuerà a far parlare, io spero, positivamente l'Italia intera e non solo la nostra città. È un contributo, io credo, alla storia del melodramma in Italia, non è solamente una delle tante produzioni che si fanno nelle stagioni liriche. Grazie. Ringrazio l'assessore e adesso vorrei entrare più nel merito della produzione, presentando i cantanti. Antonio Corianò, tenore, sarà Aroldo. È un cantante che dopo il fortunato debutto al Festival di Ravenna, nel ruolo di Don José, nella Carme di Bizet, ha visto aprirsi le porte di importanti teatri italiani e stranieri, con prove apprezzate dal pubblico e dalla critica. Un tenore che ha affrontato tanti personaggi verdiani e qui a Rimini affronta per la prima volta un nuovo ruolo. A lui chiedo che parli della sua sfida di interpretare Aroldo. Buongiorno a tutti. Premetto che preferirei di gran lunga cantare il ruolo di Aroldo, piuttosto che essere qui a parlarvene, francamente. Mi sento piuttosto fuori luogo, ma chiedo comunque la vostra comprensione. Grazie. Della drammaturgia di Aroldo si è scritto molto. E lo hanno fatto persone, naturalmente, lo hanno fatto persone molto più competenti di me. Io voglio solo ritagliarmi, diciamo, parlare del, diciamo, un piccolo spazio per quanto riguarda il ruolo e l'aspetto musicale. Di quello che il mio maestro, quando ci siamo avvicinati allo studio della partitura, il mio maestro lo definì non un ruolo, ma una cattedrale. Una cattedrale, quindi, per definirlo quanto sia, effettivamente, quanto sia complesso. È ben definito questo ruolo ricco di contrasti, di sfumature, tanto da rappresentare un unicum nella composizione del maestro Verdi. Sappiamo, come diceva appunto l'assessore, sappiamo che Aroldo è un ampio rifacimento dello stifferio e sono passati sette anni dalla scrittura, quindi siamo nel 1857, appunto, e Verdi è ormai uscito da quelli che sono gli anni di, come lui stesso li definì, gli anni di galera. Ecco, allora che vediamo nella partitura di Aroldo, oltre alle pagine, ci sono delle pagine aggiunte ex novo, c'è uno scavo emotivo del personaggio molto più approfondito, quindi che si arricchisce di quelle sfumature, di quelle espressioni che portano questo personaggio a renderlo molto più complesso. Dal punto di vista musicale, la scrittura di Aroldo è una partitura, è una scrittura prettamente drammatica, drammatica quindi con salti di ottava dal re basso al re al do sotto il rigo, fino a svettare repentinamente sul la si bemolle, quindi per poi trovare anche delle pagine di puro bel canto, se vogliamo, quindi di puro bel canto che sembra quasi di sentire anche di sentire Bellini in alcuni momenti. Ed è con questa musica, appunto, che il maestro, che Verdi, delinea le vicende, le emozioni, le emozioni di Aroldo, che sia un combattente, un soldato, ma soprattutto che è un uomo, un uomo ed è un uomo innamorato, ma al tempo stesso lacerato. E mi piace così, ecco, l'ultimo pensiero sento di, come posso dire, trovo molte similitudini tra Aroldo e la mia personalità, perché è un po' impetuoso, impulsivo, ricco di emozioni, è un personaggio molto ricco di emozioni. E queste emozioni che poi lo portano lentamente alla comprensione, al perdono verso la sua amata. Mi piace concludere con una frase. Credo che sia, diciamo così, che ci voglia molto più coraggio a perdonare che a non ammollare tutto. Ecco, proprio che il, se vogliamo, l'excursus del personaggio di Aroldo. Quindi con il grande perdono finale verso Mina. Grazie molte. Adesso è la volta di Lydia Friedman, soprano, che interpreta il ruolo di Mina. È nominata come migliore giovane cantante d'opera con il premio Opera Awards 2020 a Londra e segnalata dalla seguitissima rivista americana Opera Wild. Tra i migliori dieci giovani cantanti a livello internazionale nel 2019, sempre in quell'anno, ha cantato nel Festival Donizetti Opera ed è protagonista come Silvia de Linares per la prima mondiale escenica dell'Ange di Nisida. Debutta nel ruolo di Mina e in assoluto in un ruolo verdiano. Come ha affrontato, Lydia, la complessità vocale e psicologica di Mina? Qual è la sua interpretazione? Grazie, Annelisa. Buongiorno a tutti. È la prima volta che vengo a Rimini e poter dibuttare nel bellissimo Teatro Galli proprio nell'Aroldo, nell'opera con la quale è stato inaugurato il teatro, devo dire, mi rende davvero molto onorata. E non vi nascondo anche che sono molto emozionata, come ha detto la signora Maselli, perché sarà anche il mio dibutto verdiano. Interpreterò Mina, la moglie di Aroldo, e nonostante Mie sia un personaggio, mi permetto di dire, un po' meno conosciuto rispetto alle altre donne verdiane, però a mio avviso lei merita tanta attenzione quanto ne hanno le altre. È un personaggio di grandissima forza interna, un personaggio di grande coraggio, una donna determinata, una donna che prende le decisioni e le porta fino alla fine. Spero che i registi mi permettono di dire, ma il nostro spettacolo avrà delle parole chiave. E una delle parole chiave più significative, più forti, la parola principale forse dell'opera, secondo me, sarà la parola colpa. Perché Mina è una donna colpevole, una donna colpevole di tradimento, di tradimento verso il proprio marito. Ma la storia non si esaurisce con questo tradimento, anzi, partendo da questo, si sviluppa e ci mostra un personaggio di grande profondità, di grande profondità psicologica, di grande coraggio. Cioè, Mina riconosce le proprie colpe e, se posso dire, prende delle decisioni molto forti, come per esempio quella di chiedere al proprio marito, anzi, la parola chiedere non è giusta, di obbligare il proprio marito a giudicarla. È una cosa fortissima, soprattutto se pensiamo che Mina è l'unico personaggio femminile in questa opera. E quindi si oppone alla forza maschile, si oppone al mondo maschilista che la circonda. Se poi possiamo parlare anche, appunto, della scena del perdono, del quarto atto. Cioè, quando Mina è cosciente che Aroldo non può perdonarla, non è in grado, cioè lei accetta che Aroldo non è in grado di perdonarla, allora quello che chiede è non toglierle la speranza di essere perdonata un giorno, di non toglierle l'ultima possibilità. Adesso lo sto dicendo, mi vengono i brividi della forza di questa donna, quindi quello che posso dire è che l'ammiro molto, ammiro il suo coraggio, le sono vicina e non vedo l'ora di darle la mia voce. Grazie. Grazie, Lidia. Adesso è la volta di Michele Govi, baritono, che interpreta il ruolo di Egberto, vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha avuto modo durante la sua carriera di affrontare molti ruoli verdiani, esibendosi al fianco di artisti famosi, diretto da registi altrettanto famosi, quali Pierluigi Pizzi e Franco Zeffirelli. Le chiedo, quali sono le caratteristiche del suo personaggio? Sì, buongiorno innanzitutto. Io mi associo ai miei colleghi perché devo dire che io sono più abituato a stare sul palcoscenico che non qui davanti ai giornalisti e a parlare, eccetera. Quindi se sentirete un po' di incertezze, insomma, abbiate compassione. Dunque, io mi baserei un po' su come io ho cominciato ad affrontare questo ruolo. Io innanzitutto leggendo il libretto ho subito capito dalle prime parole di che pasta era fatto il personaggio e cioè le prime parole di Egberto sono miei sospetti di chiarirvi è tempo di mia casa l'onor alto lo impone. Quindi il personaggio già con queste parole viene smascherato. Cioè per lui l'onore è la cosa più importante, l'onore della famiglia, l'onore più importante. Quindi il personaggio è un personaggio rigido, severo, è un militare abituato a comandare, ad essere obbedito. E naturalmente avere una figlia che non è completamente in linea con quelli che sono i suoi principi lo destabilizza, lo destabilizza notevolmente. Poi la seconda fase naturalmente era stata quella con i maestri, col maestro Benzi, col maestro Sala, un po' capire come rendere vivo questo personaggio, come renderlo sul palcoscenico. Allora qui abbiamo seguito la strada fra virgolette del minimalismo, cioè movimenti molto molto rigidi, molto misurati, proprio perché appunto secondo noi questo essere non violento fisicamente o comunque non avere dei gesti molto cruenti enfatizzavano maggiormente la potenza e la severità del personaggio. Quindi questo è stato. E ora per ultima cosa la cosa più interessante poi per me è stato invece associare il canto a questo tipo di recitazione molto molto misurata, molto minimalista e qui è stato un lavoro che abbiamo fatto, un lavoro difficile ma veramente stimolante perché per esempio il lavoro difficile è stato anche nel terzo atto dove Egberto ha un'aria dove Verdi naturalmente esplode nelle sue grandi capacità espressive e devo dire che riuscire a mantenere un diciamo un minimalismo ecco scusate se insisto su queste parole un minimalismo dei movimenti e dell'espressività era la strada migliore proprio per ottenere un personaggio forte e credibile nello stesso tempo quindi questa è la mia diciamo la mia idea un po' del personaggio grazie grazie molte come avrete capito anche dalle parole dell'assessore si tratta questo Aroldo ha una nuova versione una nuova visione che è stata messa a punto da un team formato da Maglio Benzi Emilio Sala Edoardo Sanchi e da tutto il resto dello staff proprio per raccontare questa complessa genesi che è durata diversi anni invito il maestro Maglio Benzi a raccontarci un po' la realizzazione come ha preso forma questa nuova versione di Aroldo ricordo solo con poche parole la figura di Maglio Benzi è un direttore con una carriera internazionale ha collaborato con i più importanti teatri in Italia e all'estero e soprattutto si è cimentato in nuove produzioni sia in Italia che all'estero e vanta anche una importante attività concertistica in più è docente di direzione d'orchestra a Pesaro quindi diciamo una figura tutto tondo a lei maestro chiedo di questa nuova versione di Aroldo e della genesi che ha portato a questo nuovo spettacolo allora buongiorno a tutti come ha detto l'assessore Giampiero Piscaglia ci troviamo a ritornare su questa su questa nostra fantastica storia della Aroldo dopo svariate tappe già con qualcuno di voi abbiamo fatto una conferenza stampa in primavera perché in maniera piuttosto inconsueta il nostro lavoro comunque molto profondo ci ha portato a disegnare un percorso per cui anche già qualche mese fa ci siamo ritrovati qui col cast e con i tecnici a montare lo spettacolo non voglio esaurire completamente la domanda che mi è stata posta perché voglio poi lasciare la parola anche a Emilio che da questo punto di vista è veramente la la mente che è riuscita in un modo che ogni volta che entro dentro questo teatro a lavorare in questa produzione mi stupisce di più a raccontare a riraccontare la storia di Aroldo che in un qualche modo è diventata anche la storia del nostro teatro che a sua volta è un po' la nostra storia in questo filo che ricordava l'assessore Piscaglia che dal secolo scorso attraverso la costruzione del teatro con l'opera di Verdi e poi la sua distruzione e poi la sua ferita rimasta aperta per 75 anni e poi la storia che arriva a noi che per la prima volta lo riportiamo dentro quindi non voglio perdere troppo tempo a raccontare questo perché credo più giusto lo faccia lo faccia Emilio subito dopo di me cioè come appunto la storia di questo perdono di questa ferita perché la storia di Aroldo molto brevemente è la storia di un ritorno a casa del soldato che scopre che la moglie lo ha tradito ma la moglie lo ha già tradito ma si è già pentita ha sottolineato molto l'aspetto della colpa la nostra Lidia e la storia di Aroldo è la storia di questa ferita e della riconciliazione finale devo dire anche in termini estremamente moderni non c'è nulla quasi di vecchio di antico di non facente parte delle nostre vite di tutti i giorni Emilio ve lo racconterà molto bene questo io ci tengo a sottolineare invece l'aspetto della produzione di questa di questa Aroldo lo faccio in un modo molto semplice in un modo molto diretto non costruito non volendo non volendo atteggiarmi a presunzione ma con uno sguardo che negli anni ho accumulato internazionale tra virgolette sono abituato per anni ad andare in giro per lo meno prima di questo benedetto covid a costruire produzioni d'opera in giro per l'Europa e sono comunque riminese sono nato qui sono uno di quelli che credendo nella musica ho fatto della musica la mia vita ho particolarmente vissuto la ferita di questo teatro che per quando quando ero giovane ragazza quando sono cresciuto è sempre stata prima una palestra e poi un cantiere poi e per me quindi è un'emozione enorme trovarmi a fare questo lavoro qui dentro un'emozione che ovviamente ha anche grandi ragioni di speranza per un futuro possibile che ci viene a intersecare con la speranza della storia della nostra opera e questo è questo che mi assale un groviglio di sensazioni una sull'altra di emozioni anche che è molto bello provare a dipanare e quello che ci trovo che ci tengo molto a dire mi piace essere qui a fianco proprio dell'assessore che deve un po' guidare il cammino del teatro è che come appunto diceva Piscaglia questa il teatro si è già riaperto ma la roldo con cui il teatro si era aperto nell'ottocento è comunque la prima produzione che viene costruita qui dentro e sentire adesso dopo anni di lavoro prima con Emilio dopo mesi di lavoro con il cast sentire parlare i nostri i nostri protagonisti veramente mi mi si allarga il cuore perché tra l'altro sono stati tutt'altro che a disagio nel raccontare nel raccontare le pieghe del personaggio e vorrei dire che credo tantissimo e loro ne sono la dimostrazione che l'opera 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 cosiddetta lirica che già nel suo termine un po' confuso ci porta un po' fuori strada che è vissuta nella quotidianità normale forse come un oggetto estraneo che ha un che di museale di passato in realtà non è niente di tutto questo e noi con questo lavoro lo stiamo prima vivendo e perché ci vuole guardare perché ci vuole avvicinare anche credo dimostrare l'opera è una una cosa vivissima che è capace di raccogliere le ferite e il superamento di queste ferite della nostra storia e le emozioni e sentire cantanti che non solo sanno cantare ma che sanno così entrare nelle emozioni che quest'opera va a riprodurre è veramente un qualcosa che allarga il cuore e che credo ci dia il segno di un cammino che deve continuare per le giovani generazioni per chi magari è questo che mi voglio porre in questa posizione di persona che fa questo di lavoro da sempre ma è anche riminese noi purtroppo chi è cresciuto non ha avuto la possibilità di vivere queste cose adesso Rimini ha la possibilità di farle rivivere e devo dire con un'energia da questo punto di vista non voglio dire che la nostra città adesso ha una posizione privilegiata ma sicuramente ha una posizione particolare avere l'energia l'entusiasmo di costruire un progetto artistico di cui ci sentiamo parte e voglio ringraziare tutti i tecnici che stanno lavorando voglio ringraziare il comune che ha creduto in questo con un pizzico di follia perché ripeto non c'è un prima non è un teatro abituato a lavorare in questo senso in un senso tra virgolette produttivo di una cosa così complicata deve arrivare un cor deve arrivare un'orchestra tanto sarà l'orchestra Cherubini che ho l'onore di dirigere per la prima volta l'orchestra plasmata e creata dal maestro Muti tutto questo a Rimini ha una valenza veramente speciale e una forza che non è così scontato trovare nella routine degli altri teatri posto che adesso questa cosa del covid ha un po' spazzato via il termine routine perché tutto il mondo deve un po' ricominciare è anche per questo che la coincidenza storica di questa ripartenza è ancora più come dire contemporanea viva attuale mi piaceva sottolineare questo aspetto proprio sentendo parlare i miei colleghi poi se ci sono domande sulle cose specifiche ovviamente sono lieto di poter rispondere maestro grazie volevo completare il cast Adriano Gramini Briano Basso i due tenori Cristiano Oliveri Govino e Lorenzo Sivelli Enrico il coro è quello di Piacenza diretto da Corrado Casati adesso vorrei di completare questo dato che ho parlato della produzione e siccome stiamo lavorando a un livello veramente importante e lusinghiero ci tengo a sottolineare anche la collaborazione dei nostri maestri collaboratori su tutti maestro Davide Cavalli che è il nostro pianista principale e coadiutore nella costruzione del cast e nella preparazione del cast e la Tamona Giguasvili e Stefano Pecci che sono gli altri collaboratori del team niente volevo entrare ancora più nel merito dello spettacolo pensato come un site specific attraverso le parole di Emilio Sala che firma insieme ad Edoardo Sanchi la drammaturgia e la regia dell'opera presento rapidamente Emilio Sala è un musicologo insegna musicologia all'Università Statale di Milano si occupa di drammaturgia musicale teatrale e cinematografica ha svolto e svolge importanti incarichi in ambito scientifico all'attività scientifica ha sempre affiancato numerose collaborazioni artistiche come drammaturgo e consulente musicale con svariati teatri e festival a lui chiediamo di proseguire nella presentazione degli artisti coinvolti nel progetto e di anticipare la nuova versione drammaturgica e scenica di Aroldo grazie Annalisa grazie a tutti visto che tutti hanno esordito con diciamo mettendo a fuoco un po' il loro imbarazzo io lo devo fare forse più di tutti gli altri perché come forse avrete capito anche dalla presentazione di Annalisa sarei un professore di musicologia che quindi è quasi abusivo nelle vesti di regista che mi trovo ad indossare in questa occasione però come diceva giustamente Annalisa e come sa Maglio con il quale collaboro forse da numerosi lustri potrei quasi dire da una vita ho sempre concepito il mio lavoro di musicologo in strettissima collaborazione con proprio il fare musicale e quindi diciamo sì certamente sono imbarazzato ma non totalmente per così dire preso in contropiede dalla funzione che mi è stata assegnata certo mi conforta in un certo senso mi protegge anche questo spirito che avete sentito molto orientato alla dimensione collettiva perché è stato citato sì questo rapporto strettissimo nella genesi e prima gestazione del progetto del nostro Aroldo cioè con Maglio Benzi ed Edoardo Sanchi che è come l'araba fenice ma esiste Edoardo Sanchi è una persona in carne ed ossa e anche dal punto di vista operativo molto presente ma poi si smaterializza talora in maniera diciamo irrecuperabile ma non solo con questi due proprio fratelli in questo progetto tutti coloro che vedete qui presenti hanno dato un apporto fondamentale nella realizzazione nell'incarnazione del progetto drammaturgico avete sentito le parole di Lidia le parole di Antonio e le parole di Michele ma si sono poi tradotte fattivamente in scelte registiche che sono state accolte quando pertinenti respinte quando meno pertinenti ma sempre vagliate con estremo interesse alla mia destra c'è Isa che è una coreografa e regista sicuramente più di quanto non lo sia io regista intendo beh coreografa ha maggior ragione che si occupa in questo caso dei movimenti scenici alcuni dei quali devono essere ancora diciamo scolpiti nei punti che siamo obbligati per ragioni anche drammaturgiche ad ospitarli poi ci tengo anche proprio a mostrarvi abbiamo Elisa serpilli la costumista anche lei oggi ha ricevuto un certo numero di miei whatsapp per ogni questione che è continuamente direttamente coinvolta proprio nel processo della messa appunto dello spettacolo poi vedete Giulia Bruschi al suo fianco che è la scenografa che è sempre stata presente fin dagli albori anche della concezione dello spettacolo quindi non è che è stata coinvolta in zona cesarini per diciamo realizzare no quello che era già stato perfettamente messo a punto architettato progettato a tavolino e poi avete Nevio Cavina che è il creatore delle luci che anche con lui ovviamente sempre presente a bovo a borigine e poi avete Matteo Castiglioni che siccome in questo spettacolo il linguaggio video è molto importante è stato insignito della responsabilità ci sono anche delle parti girate però soprattutto sono video di montaggio partendo da materiale storico degli anni come diceva Giampiero la nostra un nostro allestimento vorrebbe avere anche una coerenza dal punto di vista narrativo quindi gli eventi si svolgono ci saranno anche delle citazioni precise si svolgono posso dire dal maggio del 1936 al dicembre del 1943 e quindi lui fa il montaggio video poi come avete è già stato citato Godvino Cristiano e Briano Adriano rispettivamente secondo tenore e basso Briano come abbiamo fatto ma Maglio mi sollecitava a dare qualche diciamo dettaglio visto che adesso è possibile farlo il veto di Annalisa pare caduto quindi pare che non sia più spoilerare raccontare come abbiamo fatto a unire ad innestare tra loro la storia dell'Aroldo e la storia di questo teatro la nostra storia perché benché si sia giustamente sottolineato che la cittadina in cui si svolge la vicenda è Rimini di fatto non è mai stata nominata e non è necessario nominarla perché sempre di più man mano che lo spettacolo si avvicina al quarto atto che è quello tutto nuovo rispetto allo stifelio si capisce che questa drammaturgia del perdono se la vogliamo chiamare così perché il termine i termini chiave che giustamente dal punto di vista di Nina certo colpa è il termine chiave più lacerante Nina è un personaggio travolto fin dalla prima scena del primo atto dai sensi di colpa ma come lei stessa dice è una colpevole che ha il cuore puro quindi il suo non è un tradimento il termine è quello che il mondo maschile attribuisce alla sua diciamo così scappatella adulterina come la vogliamo chiamare ma questa scappatella adulterina è una è il frutto di un profondo disagio che fa sì che lei abbia sempre mantenuto il cuore puro e questo è un dato forse ancora più importante della colpa e che è capace attraverso un processo lento e difficoltoso che è quello dell'empatia del riconoscimento della comprensione di arrivare al perdono del quarto atto perdono che è lei che con un vero e proprio colpo di scena musicale lasciato proprio agli ultimi minuti dell'opera riesce a proprio con l'effetto dell'empatia si potrebbe dire con l'effetto della capacità mimetica di trasferire sugli altri personaggi in primis sul marito in secundis sul suocero e poi c'è anche Briano che sarebbe una sorta di amico del cuore è un altro personaggio legato alla sfera del tradimento perché è un ascaro che Aroldo si è portato dalla guerra d'Etiopia e che quindi appartiene ad una altra cultura ad un'altra etnia ebbene come abbiamo fatto abbiamo fatto così in modo molto semplice ma crediamo senza troppere abbiamo la presunzione di credere ma sarete voi poi a giudicare se vedete lo spettacolo senza troppe forzature il primo evento che fa da innesto tra le due storie che ci ha consentito di integrare il più possibile le due storie è la bufera del quarto atto che per noi diventano i bombardamenti del dicembre del 1943 il secondo elemento è come già ricordava Giampiero il fatto che per noi Aroldo è un reduce non è un trionfante crociato che ritorna dalla guerra giusta a me se non concesso che per noi oggi le crociate possano essere definite una guerra giusta ma è uno vero e proprio reduce con anche le sfumature psicologiche che il termine porta ormai con sé cioè è un ufficiale dell'esercito italiano che si è macchiato e ne porta proprio le cicatrici anche psicologicamente di un'atroce guerra coloniale dalla quale appunto è tornato in uno stato psicofisico direi abbastanza deplorevole di fatto è un personaggio fortemente traumatizzato da quell'esperienza ed è tutto nella partitura di Verti non c'è non abbiamo dovuto certamente sollecitare questa componente di fatto è un tenore isterico lui con eufemismi parlava di contrasti di sfumature ma è un vero e proprio tenore isterico Aroldo nella partitura di Verdi sviene cioè sviene continuamente ha delle scenate che non riesce a controllare in questo contesto si capisce l'eziologia di questo suo stato quasi alterato di coscienza o abbiamo la presunzione di credere che si capisca meglio da qui tutto le conseguenze fanno sì che Aroldo sia la suprema autorità della cittadina in cui si svolge la vicenda di fatto è il Podestà la festa del primo atto è la festa che di fatto in tutte le città in cui erano partiti ufficiali per l'Etiopia si è svolta per festeggiarne ovviamente il ritorno trionfante siamo le soglie della proclamazione dell'impero di cui sentirete un eco anche durante lo spettacolo quindi non voglio continuare oltre perché potete divertirvi a farlo voi stessi tutto il plot narrativo si ricompone coerentemente partendo dai presupposti che vi ho citati ecco per me è stato forse sì mi sono quasi commosso sentire le parole di questi giovani artisti di straordinario futuro anch'io credo come Maglio Benzi che l'opera sia fra tutti i generi teatrali quello più straordinariamente ricco se si pensa a un futuro in una dimensione globale quindi delocalizzata per così dire sicuramente l'opera è un genere che ha ancora espresso soltanto una parte direi minima delle sue potenzialità e di fatti è amata enormemente specialmente nell'estremo oriente che in questo contesto non gioca un ruolo del tutto secondario sono gratissimo a proprio a Maglio ma a tutti i coloro che sono qua presenti per le straordinarie sia quantitativamente qualitativamente proprio esperienze che hanno consentito ad un professore che di solito vive in una condizione molto diversa ancora molto frontalizzata perché benché non si tenda ad evitarlo poi di fatto è inevitabile la lezione come si diceva una volta ex cathedra cioè frontale trovarmi in una situazione in cui le cose si imparano facendole le si testano e poi si può anche cambiare diciamo idea è una condizione ideale quella che nei termini universitari sarebbe un laboratorio ma un laboratorio di questo livello e di questa portata è qualcosa di per me entusiasmante e ossigenante ecco quindi credo anch'io che questa sia una produzione anche dal punto di vista metodologico Maglio l'ha sottolineato molto bene abbastanza anomala perché appunto ha questa dimensione non compartimentata siamo partiti da un'idea drammaturgica e questa idea drammaturgica è diventata un'infrastruttura che ha per così dire coinvolto anche tecnicamente tutti gli aspetti del lavoro di tutti compresi macchinisti che qua non ci sono ma che interpreteranno loro stessi in una scena in una delle prime scene dell'opera quindi con proprio un senso di profonda gratitudine che vorrei terminare questo mio intervento grazie grazie davvero a Emilio Sala si merita un applauso decisamente volevo completare sempre la locandina citando il fatto che Maria Grazia Cervetti e Rinaldo Rinaldi sono intervenuti con un rifacimento pittorico del sipario storico di Francesco Coghetti che vedrete a conclusione dello spettacolo e poi desidero ancora inserire il conferenziere Ivano Marescotti e ancora il gruppo di macchinisti che introduce e issa il sipario storico del teatro cito rapidamente i loro nomi Luca Bozzelli Alfredo Catalano Matteo Gambi Tommaso Maltoni Vittorio Regina Gianluca Tognacci Luciano Trebbi aggiungo anche l'assistente alle scene Riccardo Mainetti e Raffaella Girardi che insieme a Elisa Serpilli ha realizzato e creato i costumi ecco questa è di fatto la nuova produzione di Aroldo dopo 164 anni ripasso la parola all'assessore per la breve conclusione sì questa sì poi se ci sono delle domande tutti sono disponibili ma prendo spunto da questi ultimi da queste ultime notte eccitazioni per che che sono sintomatiche di che cosa di un teatro che è vero ha riaperto i battenti il 28 ottobre poco tempo fa quindi non sono passati quasi tre anni ma è un teatro che a passi a grandi passi sta raggiungendo e aspirando a diventare ad avere un rango più importante di quello che attualmente ha quando il teatro ha riaperto in una regione come questa che anche in questo ha dimostrato di essere una regione civile e anche solidale sapete che quando c'è quando ci sono dei commensali intorno a un tavolo se ne arriva un altro generalmente i commensali cominciano a sgomitare evitando che quest'altro possa entrare perché la torta è quella e in questa nostra regione invece complice anche il ruolo della regione Emilia Romagna e dell'assessore Felicori questo non è avvenuto appena il teatro ha aperto tutti gli altri teatri gli altri sei teatri di tradizione hanno hanno dato il benvenuto al nuovo teatro qualcuno dirà non poteva che essere così l'unico teatro in Italia ad essere inaugurato da Verdi però così è avvenuto e di fatto il nostro teatro già adesso è seduto si siede al tavolo regionale degli altri teatri di tradizione e partecipa ai finanziamenti che la regione e anche lo Stato dà agli altri teatri di tradizione e quindi le nostre prime coproduzioni che ci sono state nella nostra stagione lirica sono avvenute in coproduzione non con questo o quel teatro italiano di chissà quale rango ma con in primo luogo con i sei teatri di tradizione della regione Emilia-Romagna ma quelli che sono stati fino adesso dicevo erano coproduzioni nei quali noi come altri teatri entravamo diciamo come uno dei tanti vagoni diciamo di questo treno coproduttivo in questo caso come è stato detto noi stiamo affrontando per la prima volta una coproduzione nella quale sono coinvolte anche il teatro di Ravenna il teatro di Modena il teatro di Piacenza ma nella quale il nostro teatro è capofila capofila vuol dire che appunto come è stato detto la produzione nasce qui tutto l'allestimento di questa opera nasce qui questo allestimento questa produzione poi andrà negli altri teatri ed è un fatto straordinario perché in tre anni certamente non venivamo da non era la nostra città una non è una cattedrale in un deserto in cui non succedeva niente perché ci sono stati 72 anni comunque di una una sagra musicale malatestiana di una stagione teatrale che era comunque è stata ed è tuttora molto ambita dalle compagnie teatrali italiane e certamente non c'era la lirica perché non avevamo il graticcio non avevamo una torre scenica gli altri teatri sì ma gli altri teatri per esempio non avevano la sagra quindi noi non è che siamo partiti da zero ma certamente le produzioni di lirica hanno dei contenuti anche delle professionalità diverse in soli tre anni io penso che arrivando a questo a questa produzione noi stiamo dimostrando con le competenze le professionalità che abbiamo messo insieme di poter aspirare a pieno titolo di raggiungere e questa cosa la dico non solo come auspicio ma anche con un percorso che è iniziato che ha buone possibilità in tempi non lontani di essere raggiunto possiamo aspirare a diventare il settimo teatro di tradizione della regione Emilia Romagna abbiamo tutte le carte in regola per farlo Rimini è un capoluogo di provincia che ha un'importanza il bacino non è solo quello qui abbiamo anche un altro stato fra di noi San Marino ci sono tutte le condizioni per diventarlo questo vuol dire che le competenze sono cresciute sono stati citati i tecnici i macchinisti che fanno parte anche della della drammaturgia in questo caso ma non solo i macchinisti tecnici ci sono sono 15 è un bel gruppo che altri teatri non hanno anche un numero così importante fra macchinisti elettricisti fonici e operatori di di video ma ci sono tutte le altre competenze anche quelle organizzative anche quelle amministrative anche quelle logistiche cioè tutto ciò che compone la produzione in soli tre anni noi siamo arrivati a diventare capofila e badate siamo in una regione importante non siamo in una delle tante realtà cioè questa è la è la regione in cui l'opera lirica è nata ed è la più importante credo a questo punto del mondo per quello che riguarda per come l'opera lirica che il melodramma è vissuto anche negli altri paesi in soli tre anni noi abbiamo fatto dei passi da gigante tutti quelli che sono stati citati io non li riprendo perché è stato fatto e ne dimenticherei sicuramente ma dai macchinisti gli elettricisti tecnici gli amministrativi quelli che organizzano e quelli che fanno funzionare la macchina siamo ad un livello per poter aspirare ad arrivare a questo a questo obiettivo e questa produzione forse ci darà anche la spinta la visibilità anche per poterlo fare in una maniera ancora più potente per come verrà perché è un'opera non solo importante e storica dicevo dal nostro punto di vista ma anche molto complessa per il tipo di complicazioni drammaturgiche che dall'inizio sono state pensate ecco io concluderei così e adesso se c'è se qualcuno vuol fare delle domande loro sono disponibili esauriente quindi direi di concludere in questo modo se non c'è altro ringraziando tutti è davvero una bellissima esperienza anche per me grazie 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 a tutti